Ciao a tutti e bentornati su Nessa SMR Finalmente nuovo video Queste settimane sto facendo un po' così Però ora ho finito la sessione invernale di esami Quindi sono un pochino più tranquilla Almeno fino a quest'estate Quando ci saranno gli altri esami Ovviamente la sessione estiva E appunto quando li farò Insomma magari vi avviso Ma comunque lo capirete dal ritmo dei video Che posterò Comunque per il momento ad oggi Vi dico che nelle prossime settimane sarò più attiva Tornerò ad essere attiva Allora vorrei portare come video appunto oggi Un bel tracing Whispering Inaudible di Vogue Perché è la mia rivista preferita E perché tra l'altro se non erro Ho questo numero di febbraio Ma non ho fatto in alcun file SMR Nel numero neppure di gennaio Che tra l'altro mi era arrivato un po' in ritardo Quindi per adesso faccio quello di febbraio Ma vorrei mettere in uno dei prossimi Anche quello di gennaio Perché è troppo carino Per essere sprecato Ma poi porterò anche di nuovo video lettura E so che vi sono piaciuti anche i video Insomma in cui completavamo insieme L'enigmistica Quindi porterò anche quelli sicuramente E poi sono molto divertenti direi Soprattutto quando io Non riesco a seccare le parole Però nella maggior parte dei casi Dai è andata abbastanza bene Allora Se siete nuovi sul canale Vi piace le note Tipo il whispering Vi piace il suono delle pagine Il tracing eccetera Io vi consiglio di iscrivervi al canale Mi farebbe molto piacere E poi lasciate un like E un commentino Se volete supportarmi Inoltre io ricordo sempre Che nella descrizione Lascio il link O per l'amazon wishlist O per le donazioni paypal Nel caso in cui Abbiate la possibilità Insomma di supportare Anche diciamo La qualità del canale In quest'altro modo Ma già Io vi ringrazio Per aver cliccato sul video Allora Io direi di iniziare A questo punto So Focà Itààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà libero, 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 spirito libero un po' di tracing sul viso della ragazza in copertina coco, vedi, attrice, attrice, attrice ci saranno anche un sacco di mozzans credo in questo video ho messo un po' di luce labbra apposta e poi sul viso, sul viso, sul viso allora io direi di iniziare abbiamo in prima pagina Dior con questo completo ragione con le taschine completo ragione, molto carino, devo dire molto, 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 molto carino sul viso, su questi capelli che sembrano così precisi da essere una parrucca e le gambe, le gambe, le gambe con questi diciamo, sandali ballerina non saprei definire la verità ok e poi anche le modelle dietro lei con tagli di capelli molto, 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 molto simile a quello della modella di fronte e anche qui abbiamo un'altra modella con un vestito invece nero e verde che riprende l'altra conna gli stivali di Cristian di Or, Cristian di Or, Cristian di Or, Cristian di Or allora, andiamo oltre qui invece abbiamo Chanel ah, questa conna non la avevo notato perché avevo sfogliato un pochino ma ha uno spacco direi molto, molto alto è una conna un po' diciamo particolare da usare in qualche occasione molto casual molto amichevole perché basta sedersi un attimino e si ha tutta la mercanzia mostra però insomma, ognuno fa come preferisce comunque non l'avevo notato questa borsetta è bellissima stupenda questo viola con tutti gli altri dorati con il champagne non saprei definirli da qui bellissima la Chanel 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 molto molto bella così anche come quella conna devo dire abbiamo ancora Chanel con questi pancelli con tante perle 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 qui invece c'è Prada Prada P R a D a Prada un po' di tresio su queste gambe lunghe 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 su queste gambe lunghe fino ad arrivare fino ad arrivare a queste scarpe di Prada queste diciamo saprete finirle forse sono una via di mezzo tra una ballerina e un paio di tacchi un po' di scarpe con il tacco basso da giorno per così dire e poi qui invece abbiamo Fenty con questa modella che indossa un cappotto molto 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 grande super morbido super 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 morbido morbido puff molto caldo caldo morbido caldo morbido sicuramente caldo 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 con questa claccia questa borsa stupenda con la F del logo F di Fenty 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 anche la collana credo sia di Fenty 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 qui invece abbiamo Zentaia che indossa gioielli pulgari 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 prendiamo un po' di contouring sulla nostra zentaia sull'orecchio addosso l'orecchino poi questi capelli ben tirati dietro questa acconciatura un po' di che per gli americani molto clean molto stile diciamo minimal pulito e anche le sopra cilie super pettinate all'insù cilie finte un po' di mascara di ombretto il naso il naso il naso il naso il naso e le labbra le labbra le labbra le labbra le labbra indossa una collana adorata di bulgari di bulgari rom bulgari rom bulgari rom bulgari rom bulgari rom e un bracciale sempre bulgari Chanel qui invece Chanel fine jewelry Chanel fine jewelry alberta ferretti con questo bellissimo vestito che si raccoglie qui in vita sulla sulla pancia un po' sovra l'omperico sicuramente e poi si riapre sui fianchi e cade dritto e morbido sui fianchi della della modella è molto interessante questa linea di vestito crea una bella forma clessitra 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 devo dire qui invece abbiamo Versace abbiamo Versace con gg adit e bella adit le sorelle 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 modelle gg adit e bella adit bella adit contola della Versace nell'altra pagina le vediamo sorridenti qui abbiamo maxmara 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 etro 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 vado un pochino più veloce se no non riusciamo a fare tante pagine disquert 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 di nuovo del core del core del core del core con questo versetto super super particolare con questo strascico tutto super particolare particolare andiamo oltre anche qua sempre del core con questo top scollato crop top però decorato con questi grandi fiori rossi così come la gonna poi abbiamo gas gas che va su delle linee un po' tradizionali, femminili sport max invece molto più morbido diciamo una linea sicuramente più moderna in alcuni aspetti il cappotto è molto bello devo dire qui invece iniziano gli articoli ma a noi ci interessano molto le pubblicità Isabel Mara Isabel Mara Isabel Isabel Mara pollini e scarpe pollini, pollini, pollini questo sandalo con il tacco dorato con vari anelli pollini, 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 pollini marinarinanti marina, marina, marina Giovanni Raspini che troviamo sempre, il nostro grande Giovanni Raspini con i suoi gioielli Jacob Cohen, spero di farlo pronunciato bene, penso sia tipo un nome del nord Europa, non saprei questa maglia molto semplice da tutti i giorni da indossare un po' comunque perché ci sta di jeans molto particolari, carini, con questa linea un po' diciamo mom jeans credo sia e quindi belli dritti ma la che si stringono un pochino in fondo, un pochino un pochino tutti decorati con delle pietre, delle pietre, delle pietre super super luminose nella parte superiore del jeans, è un piccolo 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 strappo qui, con delle belle scarpe verdi, scure, verde bosco, con un tacco credo 5, tacco 5, tacco 5, tacco 5, invece l'altra modella addossa un capotto di jeans lungo, non ho mai visto un capotto di jeans lungo, sempre corti, e una velba sotto anche lei con un paio di credo mom jeans, credo sì sì, o poi friend jeans, non lo so, e invece poi dei sandal, diciamo delle ciabattine sandal, le scarpe marroni, qui invece c'è Giorgio Armani con queste linee, linee, linee che decorano la maglia, le rendono molto, molto più diventata, molto più diventata, intrecciata, particolare devo dire Giorgio Armani, c'erano anche altre pagine qua, mi sembra un po' complicato questo tipo è infattiedenro, va sempre Giorgio Armani, e qui c'è Amina, Armina, queste scarpe su Lynd Sheyers sparkling, fucsia, 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 questa neve sicuramente finta, ma molto carina, molto carina, molto carina, un po' estive, primaverili, ma ci sta. Allora, io direi per il momento di fermarci qui, mi ha fatto molto piacere ritornare a registrare, io adoro fare tracing sulle riviste, sulle pubblicità, sui vestiti, parlare, 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 piano piano con voi, descrivere, ditemi inoltre se vi è piaciuta un po' questa illuminazione, cioè è la luce del giorno e di solito registravo con la ring light accesa la sera, perché c'era più silenzio, oggi ho peccato un pochino di calma di giorno e quindi sto registrando con la luce naturale, non credo di aver registrato altri video con la luce naturale, non lo so, non ricordo, comunque ditemi cosa ne pensate, se la preferite rispetto alla luce artificiale, perché altrimenti io mi ci metto e registro di giorno quando ho la possibilità, se magari per gli occhi e per appunto accogliere il sonno un pochino di relax, preferite questa tipologia di luce, nulla, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, vi ricordo sempre di lasciare un like e di iscrivervi se il video vi è piaciuto e niente, in descrizione come sempre il link per amazon wishlist e donazioni paypal se volete, e nulla, noi ci sentiamo in un prossimo video, ciao!